Kul Kangaro Kul Kangaro C5 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 è molto semplice non è più quello che era così e ora sono tu crta una geometria, se lo vedete scacaccio ovai na B4 e prendo ancora la qualità e ora prendo e prendo la qualità e poi c2 è portato il mio da prendo laベ prendo la macchina bene, invece le tasse e le cose e ora andiamo a far più e quella è vero la mia è l'amico andiamo a far più non l'amico ho visto che Ma perché lui vuole venire lato? Ma perché io vorrei venire lato. Se io D5 e lui qua. E ora sono i ragazzi. 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 Dopo Dona D5. Lui ha aperto. Mi piace come dicevo quando mi aprono così il re. E ora sono i ragazzi. Ok, buvo. E poi избri due 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 due. E poi ci sono i ragazzi. E ora și anzi. Ok, hai ancora. E ora sono i ragazzi, ok. S我們 a vedere. Quindi tommo ora, mi know. E ora mi sembrava. Si, questo è quello D1. È sempre così. Non c'è una cosa che si può creare in F6, non c'è una cosa che si può creare in F6. Non c'è una cosa che si può creare in F6. Questa è una cosa che si può creare in F6. Non è una cosa che si può creare in F6. la combinazione prende e io prendo il quale fine da vediamo come on to ok 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 e io così l'ovacev 6 ma con un sacco il buzo ovo na ok se vi darò il quale l'idea è la qualità l'ovacev 6 problema solo se l'ovacev 6 prendere solo se l'ovacev 6 prendere dobro mi sim parte è isgubljena to è jasno mislim da dove sa to usiamo lovace la G5 il non è 5 a perché l'ovacev 6 prendiamo questo e poi torre F5 c'è una torre in più questo non è più non è più però lui esiste come giocare lui prenderà qua è probabile niente eliminiamo questo ma è più la prima cosa è più facile darò un sacco e adesso non è più non è più ma è più prendere qui prendere la prima che mi dava un sacco per petto non mi sembra che mi dava un sacco per petto adesso è più facile ora può essere che cosa è ora potrebbe essere che ci sono il sacco 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 no no non ti do questo vado qua non deve mai uscire pensavo di prenderli ma lo pensi adesso andiamo adesso andiamo adesso andiamo e do questo e un sacco non è un sacco questo cambiamento va bene solo con questo raffare indietro senza che stessi raggiungi non mi può stare come si è un po' triste e rilev sembra che noi abbiamo un'iniziativa però in sostanza ok, come solito vi invito se volete scrivervi il mio canale a like commentate e commentate ciao